Il Ballon Skyline è il re della collezione Skyline, architettura intorno alla quale poi svilupperemo tutta la collezione. L'ampiezza della sua coppa lo rende uno strumento per la degustazione pari ad un decanter. All'interno della coppa, della camera, i vini si ossigenano perfettamente e questo ovviamente lo rende uno strumento di degustazione perfetto per tutti i vini che hanno bisogno di ossigenarsi, i vini più maturi, strutturati, complessi, i vini più vecchi. La sua forma però stimola viaggi esperienziali, quindi non è da trascurare anche per la degustazione delle bollicine più complesse e strutturate. Un ulteriore plus di questa collezione, in particolare di questo calice, è il peso piuma che siamo riusciti a raggiungere pari al peso di un calice soffiato a bocca.